ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video torniamo a fare la prova di una power station quindi un dispositivo portatile o meno con una batteria integrata che ha al suo interno un inverter quindi che fa uscire il 230 volt per le spine e che fa anche uscire delle tensioni in continua 12 volt 5 volt cellulari eccetera ok power station quelle che adesso vanno tanto di moda ma prima di guardare anche questo video se vi fa piacere vi invito a fare una riflessione e qui vi faccio un piccolo pippone vi rubo qualche secondo allora tante volte arrivano dei commenti dove i leoni da tastiera dicono ma voi youtuber fate queste recensioni perché vi mandano i prodotti vi pagano vi dicono cosa dire non siete obiettivi allora due o tre punti da chiarire adesso poi vediamo quanti me ne vengono in mente allora prima di tutto voi youtuber va bene ma gli altri sono youtuber io non mi definisco tale perché perché per me lo youtuber è quello che vive di video che è ben lontano dalla mia condizione reale perché voi magari non mi conoscete vedete un canale che comunque ha tanti video iscritti ne ho 40.000 quanti sono non mi ricordo e dite a questo qua lo pagano vive con i video no per chi non mi conosce io faccio l'elettricista adesso sto aprendo un negozio insomma sto sono un piccolo imprenditore che guadagna in altri modi lavorando questa cosa di youtube è nata per gioco l'ho portato avanti una passione tra vogliamo una missione perché ormai mi dà soddisfazione aiutare le persone portare dei contenuti interessanti prendo qualche soldo certo perché le visualizzazioni vengono pagate ma come ho detto più volte se vedete quanto mi pagano mi chiedete perché lo faccio punto primo chiuso non siete obiettivi vero potrebbe questo però cosa comporta comporta essere a conoscenza di alcune differenze voi prendete me che ho provato diverse power station no fino adesso ne proverò ancora il prossimo video ad esempio sarà su una power station eco flow che si chiama river 2 però mi sembra sì con un altro pannellino insomma altre prove oggi proviamo questa power station di una marca che si chiama all powers ne ho provate altre come ben sapete a casa mia un bluetti ma il concetto che voglio spiegare qual è che io non mi curo molto di guardare gli altri canali però se andate a vedere chi fa recensioni di questi prodotti di marchi diciamo prestigiosi tendenzialmente tratta solo quelli questo perché non ve lo sto a spiegare ci sono dietro degli accordi delle cose ma questo non mi riguarda quello che mi riguarda è il fatto che io io non seguo la massa io non sto alle regole che mi potrebbero venire imposte che mi è già capitato mi fossero proposte ma che ho rifiutato quindi io preferisco avere meno prodotti da recensire perché me li compro perché li scelgo in base a come me li propongono piuttosto che fare dei bei video con sette batterie 50 pannelli tutti gli ultimi dispositivi appena usciti che costano 7 8 mila euro non è quello che voglio fare io io preferisco fare quello che riesco con quello che riesco a prendere o procurarmi ma che posso scegliere io chiusa parentesi anzi no la riapro perché secondo me se andate a cercare bene potrei non dico essere l'unico ma uno dei pochi che nel settore power station ha provato più marchi e questa cosa andrà avanti perché per me funziona così come funziona così il fatto che tanta porcheria che mi viene proposta e che mi arriva anche a casa che apro provo e non merita di essere provata io non la porto sul canale perché non mi costerebbe niente fare un video di 10 minuti per far vedere un prodotto provorvelo magari prendere delle commissioni tutto quello che volete poi una porcheria no se mi viene detto è ma tu non fai mai video dove sconsigli roba è vero ma semplicemente perché non ho tempo ho fatto un video una volta di un inverter che ho detto di non comprare perché io l'ho comprato l'ho restituito un prodotto che su amazon costava 3 400 euro io sono un influencer amazon ok prendo delle piccole commissioni sugli oggetti che comprati tramite i miei link ma se comprate la spina al cacciavite cioè neanche me ne accorgo far vendere un inverter da 3 400 euro in un momento caldo come l'estate dove tutti lo cercavano mi avrebbe portato dei guadagni non da diventare ricco ma dei quali me ne sarei reso conto ho preferito dirvi di non comprarlo questa era diciamo una piccola intro di sfogo perché tante volte anzi no sinceramente sono più le soddisfazioni che mi date con i commenti ringraziamenti e tutto che le critiche però quando poi le critiche arrivano da gente che non sa le cose parla tanto per mi piace puntualizzare basta parliamo della power station di oggi all power un marchio che magari non conoscete che non è famosissimo ma che opera nel settore da circa 10 anni io lo conoscevo non avevo mai provato niente ho preso questo prodotto perché secondo me poteva interessare a qualcuno parliamo di una power station che ve lo dico subito secondo me non è fatta tanto per casa ma è fatta per portarsela dietro quindi utilizzo di qualsiasi tipo in movimento soprattutto outdoor tende campeggio e robe varie lì secondo me ha un senso ha una potenza in uscita di 2000 watt continui 4000 di picco un accumulo interno una batteria da 1.5 kilowattora non so se sono propriamente delle life po 04 perché non sono riuscito a trovare caratteristiche più precise ma tendenzialmente saranno sicuramente batterie a litio vari ingressi di ricarica come tutte le power station lo danno per una ricarica completa in un'ora e mezza sfruttando tutti gli ingressi possibili ingressi possibili che sono rete ingresso dc che può essere caricatore da auto eccetera ingresso solare che è abbastanza interessante perché ha un mppt da 500 watt in ingresso non sono tantissimi ma neanche pochi in un contesto di mobilità dove le piccole power station hanno degli ingressi più limitati questa già un mppt che comunque con anche solo 3 400 watt in ingresso fate in fretta a ricaricarla la metto tra le power station diciamo più piccoline perché perché è vero che eroga due kilowatt in uscita e poi vedremo se ce la fa però l'accumulo da un kilowattora e mezzo che poi in realtà vedremo non è sfruttabile diciamo per tutta questa capacità dichiarata la collocano secondo me in una fascia medio bassa il prezzo è importante lo vedremo a fine video però non è un prodotto top per alimentarci tutta la casa ok adesso tagliere qua con le parole inizierei a spacchettarla e fare un po di prove proveremo insieme anche un pannellino sempre della all powers che è interessante anche quello ok arriva in una scatola abbastanza anonima quindi non si riesce a capire bene il contenuto attenzione perché un prodotto che vendono anche su amazon direttamente non ha la consegna prime in un giorno molto veloce ci vanno circa dieci giorni due settimane per riceverla ma adesso apriamola ok scatola anonima perché la vera scatola con tutte le scritte la marca eccetera e all'interno stile matrioska quindi adesso tiro fuori quella vera scatola interna che comunque protetta da angolari di protezione per una migliore sicurezza nel trasporto ok qui abbiamo la vera scatola del prodotto dove abbiamo già l'anteprima di quello che sarà il nostro oggetto troviamo subito un importante fascicolo nella scatola con tutte le istruzioni e le procedure per attivare la vostra garanzia ufficiale questo è un passaggio importante da fare se acquistate questo prodotto poi abbiamo un ottimo imballo che protegge tutta la nostra unità un'attenzione scrupolosa la protezione qui abbiamo un po di accessori alla nostra power station troviamo innanzitutto un sacchetto una borsa per custodirla per ripararla con cerniera apribile non abbiamo maniglie ma serve esclusivamente per proteggerla leggermente imbottita sul fondo con questa apertura laterale a cosa serve serve per avere un utilizzo anche in esterno di questa power station sale per l'umidità e qui troviamo una bustina con un po di accessori che adesso analizziamo meglio a banco finché arriviamo alla nostra power station eccola qui molto comoda da prendere con le maniglie anche per tirarla fuori dalla scatola la mettiamo sul banco la guardiamo meglio dunque partiamo dagli accessori in dotazione una comoda sacchetta griffata che comunque non è male è sempre meglio che avere gli accessori buttati in giro cavo per la ricarica da veicolo molto molto robusto molto spesso con il solito connettore in dc per l'ingresso nella power station poi abbiamo la spina con l'attacco classico quello da computer per ricaricarla da rete e poi abbiamo il cavo adattatore da ingresso dc a mc4 negativo e positivo questo è il connettore negativo come vi spiego sempre montato sul cavo positivo perché l'arrivo dal pannello o dalla fonte di alimentazione mc4 sarà cavo rosso positivo che andrà dentro il connettore negativo ovviamente funziona al contrario ma ve lo avevo già spiegato quindi nessuna dotazione particolare ma c'è quello che serve dunque molto molto compatta partiamo dalle dimensioni reali che sono 38 per circa 25 alta 23 e mezzo qui 25 e mezzo alla maniglia pesa 14 kg e mezzo è molto molto comoda da prendere con queste robuste maniglie non ho avuto grossa difficoltà a movimentarla sul retro abbiamo solamente l'ingresso per il 230 volt su un lato abbiamo una griglia per la reazione con una ventola a bordo un'altra ventola quindi una circolazione forzata in una direzione sull'altro lato sotto abbiamo semplicemente dei piedini in gomma il piano sopra è abbastanza robusto leggermente croccante si sente che sotto è vuoto perché flette quindi non bisogna eventualmente usarla diciamo come scaletta o altro però si può tranquillamente usare per riporre qualche altro accessorio magari un apparato da ricaricare un fornetto insomma quello che dovete collegare le maniglie come ho detto prima sono molto molto comode qui abbiamo dei grossi brugoloni che servono a garantire la chiusura di tutto il blocco perché vedete che è fatta abbastanza diciamo a scatola quindi abbiamo tutta la parte dell'elettronica sotto con il coperchio dove sono alloggiate le prese qui abbiamo quattro sciuco una due tre quattro protette da tappo in plastica in gomma non eccezionale comunque morbido va a effettuare una chiusura non molto stabile vedete che traballa però la copertura c'è una classica sciuco dove entra anche una spina da 10 ampere senza la terra centrale altrimenti dovete usare un adattatore come questo da spina sciuco a bipresa che porta spine piccole spine grosse 10 16 ampere ok vedete che nel frattempo si è spenta perché va in standby automatico dopo un tot di tempo oltre alle sciuco che vengono indicate come prese da 2000 watt perché 2000 watt è la potenza massima che comunque riesce a gestire a erogare questa power station abbiamo poi una presa accendisigari a 12 volt due porte type c per la ricarica da 5 ampere che sono anche power delivery da 100 watt poi abbiamo quattro porte usb tipo a che portano 3 ampere sul 5 volt 2 ampere sul 9 volt 1 ampere e mezzo sul 12 volt qui abbiamo la connessione xt 60 per l'ingresso dc poi abbiamo il pulsante per impairing bluetooth il pulsante per abilitare l'uscita c il pulsante per abilitare l'uscita dc pulsante che si illumina quando vengono attivate le dc e viene anche visualizzato su display che attiva le usb e l'uscita auto poi abbiamo il pulsante per l'uscita ac che va invece tenuto prenuto a lungo per abilitare l'uscita indica anche un led qui il funzionamento del raffreddamento uscita c che viene abilitata in automatico a 50 hertz percentuale della batteria che adesso è al 63 per cento indicata anche da questa simbologia grafica in questo caso ci dice anche qua sotto l'autonomia indicata in ore tutto abbastanza semplice ora bisogna fare un po di test allora iniziamo a vedere come si comporta la power station ricalicandola da rete quindi connessione nella parte posteriore power station che inizia a caricare partono le ventole parte la ricarica e sta caricando a 350 watt quindi una ricarica non ultra rapida diciamo ventole che fanno passare il flusso da sinistra verso destra e bisogna riconoscere che sono abbastanza rumorose teniamo un attimo da parte la power station mentre si ricarica e devo dire che il rumore insomma in un ambiente dove c'è l'esigenza di stare tranquilli di avere un po di silenzio può diventare fastidioso e guardiamo un altro prodotto che produce sempre l'all power questo arriva in una scatola di cartone a differenza della power station comprato su amazon arriva con consegna 24 ore questo è un pannello portatile molto portatile perché si presenta con questa comoda maniglia e questa struttura che diventa una sacca tutta chiusa questo è un pannello da 200 watt con una tensione in esercizio 18 volt a vuoto 22 volt corrente 11 ampere 12 a vuoto che pesa solo virgola tre chili questo è importante perché è molto portatile e anche un prezzo abbordabile perché questo pannello si compra a 360 euro che è un prezzo per un 200 watt che ci sta a pieno ora però vediamo le prestazioni e come è fatto pannello che si apre semplicemente da queste due fibbie all'esterno vedete che ha tutti i piedi per l'inclinazione tenuti da velcro quindi una volta aperto si presenta con questi quattro pannelli con tutte le loro celle è provvisto anche di tre ganci per essere appeso che sono fatti con una cordina ma robusta sia sulla parte superiore che sulla parte inferiore quindi possiamo anche eventualmente appenderlo in verticale usando i due ganci da un lato o dall'altro molto molto funzionale all'apparenza nel retro abbiamo poi una tasca e le indicazioni dove viene comunque detto che non è fatto per stare alla pioggia qui abbiamo delle particolarità perché abbiamo circa un metro di cavo con connettori mc4 ma in dotazione abbiamo diversi accessori dunque abbiamo innanzitutto un cavo adattatore che da mc4 diventa un connettore maschio circolare di quelli a 12 volt ma che a sua volta ha tutta una serie di adattatori da inserire questi connettori sono identificati da una sigla cosa servono servono per collegare direttamente la tensione in uscita dal pannello a un utilizzatore però per eventuali compatibilità di tensioni e conformazione del connettore non c'è una tabella non c'è una lista di applicazioni ma vengono comunque dati in dotazione abbiamo poi ancora questi altri due cavi sempre da mc4 a questa connessione particolare che non conosco ma sembra tipo la connessione per caricare una batteria con polo positivo negativo e abbiamo poi sempre da mc4 due pinze perché con un pannello che produce magari non 18 volt ma 14 16 duri si potrebbero anche avere la pazza idea di usarlo in emergenza per caricare tipo una batteria d'auto operazione non consigliabile perché conviene sempre interporre tra un pannello e una batteria 12 volt un regolatore però danno comunque tutti questi cavi in dotazione ok pannello in pieno sole sono circa le 13 e 30 di pomeriggio del 20 dicembre andiamo a vedere cosa produce ok stiamo producendo in questa condizione 109 110 watt circa il pannello è qui sotto il sole è quello che abbiamo comunque 100 watt di produzione con un singolo pannello in una giornata di mezzo sole di dicembre non è male dispositivo che sto caricando facciamo dei test attiviamo l'uscita c dunque attivando un carico lui passa alla visualizzazione del carico in uscita 700 watt quando lo spengo il valore torna a zero vedete e il display diventa visualizzazione in in watt sullo stesso display non avremo mai la possibilità di visualizzare sia i watt in uscita che i watt in ingresso visualizza un solo valore alla volta dando priorità al carico in uscita mentre invece se scolleghiamo la fonte di ricarica sul display visualizzerà sempre solo il valore in uscita ventole che partono anche con carichi importanti quindi questo rumore delle ventole bisogna tenerne conto perché ci sarà praticamente sempre ora volevo fare un paio di test volevo innanzitutto controllare le due fasi sistema che esce con due fasi quando è scollegato dalla rete ma che esce con due fasi anche quando è collegato in ricarica alla rete non abbiamo la presenza del neutro nemmeno quando c'è il collegamento alla rete ora stacchiamo un attimo la ricarica da rete perché volevo fare una prova di ricarica da stringa io in questo momento una stringa con due pannelli in serie che misura 78 volt come ingresso solare di ricarica dc accetta fino a 500 watt massimi ma con un range di tensione che va da 12 a 70 volt caricando a un massimo di 18 ampere vediamo se con quest'ingresso che supera i 70 volt riusciamo comunque a ricaricarla genera un errore 0.6 con un cicalino perché superiamo il range di tensione consentito vediamo invece come carica con la presa accendisigari in questo momento lo sto caricando con una tensione di 24 volt che sto prendendo in uscita dal 24 volt della c300 valore che poi si attesta sui 270 watt che diventano invece 135 130 watt in ingresso se usiamo una fonte a 12 volt quindi caricandolo in macchina riusciamo a caricare al massimo a 132 watt poi ho deciso di fare una prova che ormai faccio spesso perché provo a vedere se si auto scaricano rimanendo spenti di pronti all'uso sia con inverter spento che con inverter acceso perché è anche importante capire quanto può stare diciamo in funzione senza carico senza ingresso di ricarica ma con divertere acceso che comunque ha un suo consumo 20 12 18 56 100 per cento scollegato dalla rete vediamo un po come va ok è stato qui un po 3 gennaio 14 e 38 vediamo un po cosa dice di bello 100 per cento quindi nessuna auto scarica a dispositivo spento ok adesso facciamo un'altra prova che è quella dell'auto scarica però con l'inverter a c acceso ok lui parte parte la vertola l'inverter acceso sono le 9 52 del 4 gennaio lo tengo acceso qualche oretta vediamo di quanto scende la percentuale sono le due del giorno dopo sono passate circa 28 ore l'accumulo adesso è al 68 per cento quindi perde circa il 30 per cento ogni 24 ore che comunque come dato con inverter acceso non è male ok un po di test di carico in questo momento solo l'uscita dc attiva sto caricando tramite le porte type c e le uscite tipo a siamo a 12 watt di uscita purtroppo non ho un dispositivo per la ricarica rapida in questo momento perché il mio pixel è in assistenza adesso attacchiamo l'inverter quindi abilitiamo l'uscita ac parte l'inverter attacco in questo caso con spina italiana a due poli la pistola della colla a caldo che inizia a tirare i suoi 100 watt 115 circa attacco ora al radiatore svedese il tego quello di sotto se non li conoscete andate a guardare il video perché ho fatto una bella recensione di due marche diverse parte il carico del radiatore e arriviamo a 823 824 watt in questo momento siamo al 60 per cento con questo carico mi dà un'autonomia di 0,13 ore proviamo ancora ad attaccare un phon da un kilowatt per arrivare a 1800 watt di consumo siamo arrivati intorno al suo limite di erogazione continua quindi due kilowatt che tiene senza problemi ora lo lascio un po attaccato vediamo di farlo lavorare per vedere se ci sono anomalie di comportamento ok come comportamento risulta stabile ora gli diamo un colpo di grazia con la pistola termica così siamo a un kilowatt e 6 con solo il radiatore la pistola della colla a caldo e la pistola termica su potenza 1 ora la metto al massimo ok siamo arrivati a 2004 la power station è andata in blocco per quanto riguarda la c vedete che mi ha spento l'uscita c in realtà l'uscita di c continua a funzionare ma mi arresta l'uscita c va poi riavviata a mano lui riprende a lavorare immediatamente senza problemi torna in regime normale abbiamo visto che fino a 2000 lavora senza problemi passata la sua soglia fisiologica va in blocco continuiamo lasciare attaccato solo il radiatore svedese che tira i suoi 750 watt facciamo i conti un po alla carlona noi abbiamo un kilowatt e mezzo 1.5 kilowatt ora di accumulo non la usiamo tutta ma ne usiamo l'ottanta per cento che diventa 1.2 1.2 al 50 per cento sarebbero 0.6 kilowatt ora siamo partiti dal 47 per cento e sono le ore 11 51 vediamo tra quanto tempo si arresterà completamente scaricandosi la batteria consumando 740 750 watt mentre lavora proviamo la custodia da esterno ok custodia da esterno che diventa una cosa del genere possiamo chiuderla lateralmente con il velcro quindi possiamo lasciarla in esterno completamente impermeabile avendo comunque l'uscita in basso per i cavi per lasciare i vostri carichi alimentati passiamo ora la parte smart quindi attiviamo il bluetooth sul dispositivo cerchiamo sullo store l'applicazione all power l'apriamo aggiungiamo un dispositivo viene trovata la nostra macchina ci connettiamo e abbiamo accesso a tutto quello che viene visualizzato sul display quindi l'autonomia la potenza assorbita in questo momento lo stato della batteria e l'autonomia possiamo gestire direttamente l'uscita c l'uscita dc e qua sotto possiamo scegliere se uscire a 50 o 60 hertz riaccendiamo l'uscita c nelle impostazioni possiamo solo cambiare il nome alla macchina uscendo dalla macchina vediamo la macchina dove non ci dà un'anteprima diretta dell'autonomia uscendo dall'applicazione e rientrando ho notato che perdiamo la cronologia delle macchine memorizzate quindi è una cosa per usarla diciamo in modalità temporanea non è per tenerla monitorata costantemente perché appena rientrato devo comunque rifare la procedura ricercare la macchina e ricollegarmi anche se lo fa molto velocemente è da fare però tutte le volte comunque il consumo del modulo bluetooth può avere un'incidenza sull'autonomia tenendolo sempre disattivo e magari tenendola sotto controllo solo in determinati casi all'occorrenza può avere un senso chiaramente una caratteristica limitante sono le 12 e 26 siamo al 12 per cento ok sono le 12 e 32 è arrivata al 5 per cento e ha spento l'uscita c se proviamo a riattivarla me la fa riattivare ma vedete che con questo tipo di carico non riesce a ripartire proviamo a riattaccare un carico piccolo niente è arrivato al 5 per cento per lei ha finito l'autonomia allora qui ho provato a fare un conteggio perché non vorrei che poi alla fine con sticchi lo vattora ci fregano allora seguitemi se non sbaglio dunque noi abbiamo iniziato con una percentuale del 47 per cento alle 11 51 e siamo arrivati al 5 per cento alle 12 e 32 sono passati 41 minuti e in questi 41 minuti con un consumo di 730 watt di potenza attiva costanti facendo due conti abbiamo consumato 498 watt ora secondo il mio calcolo bene 41 minuti 498 watt ora di consumo siamo partiti da una batteria col 47 siamo arrivati al 5 quindi abbiamo fatto fuori il 42 per cento di batteria il 42 per cento di una batteria da 1500 sono 630 watt ora 630 watt ora contro un consumo effettivo di 500 secondo i miei calcoli se non sono sbagliati e correggetemi perché sono stanco magari sto prendendo una mucca per le balle in pratica noi in questi 40 minuti su una autonomia teorica di 630 watt ora ne abbiamo consumati 500 ne abbiamo persi 130 per strada tra il consumo dell'inverter e chissà cos'altro alla fine della fiera cosa ne deriva ne deriva che secondo me una batteria da un chilowatt e mezzo due calcoli così a stima di buono di reale alla fine possiamo contare su un chilowatt ora perché tra percentuale di diciamo di mantenimento per non portarle a zero tra il consumo dell'inverter che comunque c'è secondo me facendo i conti un po così alla buona su un chilowatt e mezzo ne usiamo realmente uno pieno prima di trarre le conclusioni diamo un'occhiata ci mettiamo al computer e guardiamo quanto costa dove si compra due tre cosine anche del pannellino dunque se la compriamo su amazon costa cara costa 1700 euro con tutti i vantaggi del caso quindi restituzione in caso di problemi se non vi piace eccetera però la pagate molto più che sul sito ufficiale il pannellino costa come vi ho detto 360 euro che è già un buon prezzo per un prodotto portatile che di solito costano molto molto cari e lo ricevete in tempi molto brevi se invece ci spostiamo sul loro sito col cambio di oggi la power station la pagate 1380 euro ma attenzione perché sono riuscito ad avere un coupon di buono sconto 93 m20 vi lascio tutto in descrizione dove da 1500 dollari convertiti passiamo a 1199 dollari col cambio ad oggi 1199 dollari sono 1100 euro spedizione gratuita in italia il pannello portatile invece lo prendiamo a 256 euro ancora da scontare allora 1700 euro di amazon no è troppo non vale quei soldi però se che ne so avete dei buoni da usare su amazon oppure la volete proprio comprare lì si trova e vi arriva con tutte le garanzie del caso non che comprarla sul loro sito rischiamo di perdere i soldi eccetera però la paghiamo 1000 euro allora un prodotto così a 1000 euro ci sta perché abbiamo visto che non è curatissima nell'estetica la costruzione solida ma non ha tante chicche diciamo che magari siamo abituati a vedere senza fronzoli diciamo onesta display semplice l'app c'è l'app la vedo bene magari siamo in tenda la polestation è fuori vogliamo vedere a quant'è mi collego un attimo col telefono ok come dicevo non la vedo molto per l'utilizzo a casa fisso se volete tenerla di scorta carica per accendere le luci attaccate la spina sulla linea luci va benissimo volete alimentare un frigo perché avete un blackout va benissimo però io la vedo molto da outdoor da escursioni da gite da tenda da campeggio da camper perché è molto comodo da portare è comunque piccola e leggera in confronto a dispositivi più grossi quindi la vedo molto molto portati l'ho provata sul furgone con gli attrezzi funziona tutto insomma fa quello che deve fare ve la consiglio non lo so io l'ho recensita vi ho fatto vedere tutto quanto dipende da cosa vi serve da quanto potete spendere da cosa volete farci mille fattori bisogna valutare siamo tutti grandi adulti vaccinati se è un prodotto che può fare al caso nostro come vi dicevo non è l'ultimo prodotto che proveremo quindi state in campana perché non proviamo altre vi ho fatto vedere questa che comunque mi sento di promuovere perché il suo lavoro fa abbiamo visto che la batteria i dati ma non solo lei un po tutte sono un po così stimati diciamo non stimati magari c'era veramente quel kilowatt e mezzo ora però tra l'inverter i consumi la percentuale di scarto il 5 per cento che rimane lì nell'inboard che non si può utilizzare alla fine usiamo meno però con 2000 watt in uscita quindi all'occorrenza gli potete attaccare praticamente tutto anche se consuma molto per poco tempo con un kilowatt ora di batteria quella cifra è un prodotto che ci può stare se vi è piaciuto il video grazie soprattutto non costa nulla ve lo chiedo sempre non sapete quanto ci metto e quanta fatica a fare un video così lungo che magari per voi è pesante però lo sapete mi piace sempre dare più informazioni possibili è una fatica immessa non vi costa nulla mi fareste un grosso favore cliccando iscriviti e magari troverete dei video interessanti nel canale di quelli che ho già fatto o di quelli che farò ci vediamo al prossimo video alla prossima diretta del giovedì sera ciao da massidattoli ciao 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 ciao